ok ragazze sono le sette e mezza di mattina e gabriel è ufficialmente sveglio come potete sentire mi sa che vuole il suo lattino licezza con anna con la carica di 101 e andrò subito a preparare il latte ok ho già messo l'acqua nel biberon l'acqua calda adesso mettiamo il latte gabriel stamattina è davvero affamato ok due cucchiai di latte chiudiamo ok andiamo a far mangiare gabriel ok intanto ho messo gabriel nella sua sdraietta d'ondro così si è rilassato un attimino che piangeva proprio tanto e adesso gli do il latte ecco qua è proprio affamato come vedete questo biberon ha questa forma perché evita le coliche evita di ingerire meno aria possibile molto carino aveva davvero fame ok gabriel ha finito quasi tutto il suo latte ne ha lasciato un pochino ma va bene adesso dovrei cambiarlo ma credo che si addormenterà lo cambierò più tardi intanto che gabriel si è ri addormentato di nuovo voglio vedere cosa mettere questa mattina e allora credo che metterò queste calzettine con Winnie the Pooh questa magliettina devo cambiare anche body quindi metterò questo giallo e per pantaloni questi bianchi e poi forse se farà troppo freddo metterò questo piccolo cardigan sopra e come vedete questo è proprio un vero fasciatoio della Foppa Pedretti il fasciatoio di gabriel e adesso vediamo se si è svegliato così lo cambio ok siamo pronti per cambiarci questo pigiamino è davvero tenerissimo con il dinosauro sopra molto tenero niente oggi non abbiamo niente in particolare da fare magari dopo che ci siamo cambiati andiamo a fare una passeggiatina fuori e così lo porto un po' fuori perché è una bella giornata c'è il sole e non è troppo freddo quindi è una giornata ideale per uscire un po' ok prendiamo il pannolino salbettina queste bianchi sono molto comode quando hanno l'apertura rigida perché evitano che si secchino subito e mi è successo un sacco di volte ok pannolino pannolino nuovo questi qua sono proprio carini con tutti i pulcini ok mettiamo il pannolino cambiamo anche il body questi sono in caldo cotone questi body quindi tengono abbastanza caldo non sono un cotone leggero mettiamo un abbastanza caldo ok mettiamo body pulito ieri ho comprato dei ciucci nuovi e poi farò una haul quando magari prenderò anche altre cose perché sono soltanto due ciucci quindi mi sembra mi sembra mi sembra inutile girare il video solo su due ciucci ok body pulito un bottone qua così poi calzettine sono troppo tenere queste calzettine poi io adoro Winner Pooh così tenere non troppo più l'altra ok eccola qui ok poi mettiamo pantaloncini questi sono molto leggeri ideali per la primavera e più che primavera sembra arrivata d'estate ok ok poi questa mallettina blu molto carina molto semplice per tutti i giorni tanto come vi ho detto oggi non dobbiamo fare niente in particolare a parte andare a fare una bella passeggiata mi raccomando fatevi sentire nei commenti ditemi cosa ne pensate dei video magari quale genere di video preferite così mi faccio un po' un'idea e ringrazio il mio unico iscritto al canale se mi stai guardando anche adesso fatti sentire in un commento così ti posso salutare ok ok ho fatto mettiamo anche il cardigan così evito di mettere la giacca metto solo questo e usciamo così perché sai magari all'ombra cioè al sole magari fa caldo però poi all'ombra fa un po' freschino quindi preferisco metterle poi molto leggero non è pesante ok Gabriele è pronto e fra poco usciamo io e Gabriele siamo pronti per uscire ci vediamo al prossimo video ciao